Ecco il tempo, siamo ritornati in diretta da Sesto San Giovanni Attenzione come in attacco ora con Camarlinghi al limite dell'aria Poi viene fermato Ancora gli azzurri che cercano di ripartire ora con Ferrari E poi con Celeguin Dalla parte opposta c'è Loreto Traversione in mezzo all'aria Loreto dentro la docente, attenzione il Como Grandissima occasione con Bovalon Respinge un difensore sulla linea Pugno ha respinto a Bovalon